Eccoci qua. Ciao carissimo. Ciao Michele. Dove ti trovo oggi? L'ufficio di Luciano non è nell'ufficio di Luciano. D'altra parte è un ufficio mobile. Sono a Milano. Ma verrai restituito? Non lo so. Speriamo che la mia famiglia è in apprezzione che ha paura che Milano sequestra il capitale umano e poi non lo restituisce più al sud. Ma domani quando questa esce sei ancora a Milano? Vediamo, speriamo. Domani sì per mezza giornata. Non lo diciamo perché sennò chi ci ascolta magari si approfitta, ti becca, ti sequestra. In Capù no, dobbiamo essere anonimi. Tu non hai restituito la tua bella Roma che ti piace tanto? Vedi, la location è molto anonima, vedi, non diamo indici. Eh no, no, non facciamo sapere. Anzi, adesso tolgo il video di Luciano. Aspetta, aspettate, è l'oscuro. Sentirete solo la voce. Vogliamo proteggere. Vogliamo evitare che Luciano... Eccoli, Capone solo esce. Capone. Ah vabbè dai, però facciamo vedere proprio se è da togliere uno qua, è da togliere me. Adesso dà, devo chiederlo. Che scemo questo software. Devi farlo andare tu. Eccolo. Il software mi permette di togliertelo, ma non mi permette di restituirlo. Non dire niente. Va bene dai, milanesi, promettete che restituirete Luciano, almeno un po' di capitale umano che torni a Roma. Va bene? Va bene. Sentite, io Luciano, siccome lo leggo ed è diventato un vulcano e devo dire sta combattendo delle battaglie, piaccia o meno, di verità, specialmente su questa questione che io adesso ho ironizzato. Però il dirigismo statalista, il lamentismo, il pauperismo, il ghevarismo di questo governo che Luciano sta ferocemente documentando e che la grande stampa... Ho visto che ti fanno andare finalmente un po' in televisione, ti invitano un po'... Sì, sì, no, ma quello periodicamente... Sì, ti lasciano parlare. Beh, insomma, io sono dell'opinione di 10-100 mila Luciano Capone. O anche Luciana Capone. Anzi, sarebbe più varietà, ecco, no? Luciano è... Sarebbe anche più piacevole da vedere, diciamo, no? Per noi uomini può essere, può essere che per le donne è più piacevole vedere te, quindi siccome ci sono entrambi i pubblici. Ma non andiamo in argomenti delicati che se ci mettiamo a scherzare su quello rischiamo le bacchettate. Insomma, io ti ho seguito stasettimana e c'è un elenco infinito di questioni. Anzitutto, questo ministro Provenzano, ex vice direttore Svimez, continua a insistere adesso sui muri, su una strana concezione... Ormai il modello superfisso di Sandro Brusco, Memoria e di Noi su America è diventato il modello dell'universo per questo. Questi sono dell'opinione, se capisco, che se un paese cresce è perché non cresce l'altro, a causa. Cioè, se va su Venezia a Calaverona. Mi sbaglio o scrive questo? Beh, diciamo, non è molto chiaro, nel senso, perché poi le argomentazioni cambiano, diciamo, si aggiustano nel tempo. Comunque, nella prima fase, il ministro del Sud Provenzano, proprio a Milano, ha dichiarato che tutti parlano bene di Milano perché è una città che cresce, che va avanti, che si sviluppa, che attrae, che aggrega capitale umano e capitale finanziario. Però è una città che, a differenza dei decenni passati, immagino del dopoguerra, non restituisce più nulla all'Italia. E quindi, diciamo, quello che si evince dal ragionamento del genere è che Milano, diciamo, sia una città egoista, che non restituisce qualcosa al paese del suo benessere, della sua ricchezza. Poi, in un'altra fase, un po' correggendo il tiro su questa espressione che è stata criticata, ha detto che in realtà è un problema, diciamo, globale che c'è in tutta Europa e tutto il mondo conosce, che questo delle agglomerazioni urbane, diciamo, che tendono ad inghiottire tutto lo sviluppo attorno e quindi a creare disagio, la rabbia delle periferie che poi fanno vincere Trump, la Brexit, eccetera, eccetera. Cioè, questo è proprio, ho capito il sociologismo, perché una volta era la globalizzazione che aveva, questa è la versione Milanovic, che aveva impoverito la classe media all'Occidente. Poi qualcuno gli ha fatto osservare che i dati di Milanovic, nonostante Milanovic, volesse tirarli da quel lato. Non dicevano questo, anzi il contrario. E dicevano ben altra roba. C'è tutta una letteratura. Come al solito queste cose esplodono e poi si scopre che sono bufale. E vabbè, i giornalisti sono andati avanti a ripetere questa cosa. Poi è arrivato Picchetti, o prima è arrivato Picchetti, a spiegare che il reddito a lavoro cala e cresce il reddito a capitale ed è questa la causa della disuguaglianza. Poi qualcuno gli ha fatto osservare che da un lato era un errore statistico, dall'altro la vera disuguaglianza viene dalla differenza nei redditi da lavoro o dalla capitalizzazione degli stessi, ma anche questi sono sospettati. Adesso la nuova versione è che Trump, e ognuno di questi era la causa di Trump o di Salvini. Adesso Salvini è la causa del fatto che Milano cresce e invece Catanzaro no. Beh no, viceversa, scusa. Salvini è causato dal fatto che c'è crescita a Milano e nel Veneto e che ne so, ma non in altre parti d'Italia. Questa è la teoria, si rifà anche un filone di geografia economica, un po' nel dibattito, ti ricordi, delle giornate di Liberi Oltre era emerso... No, no, ma non può rifarci, perché quel dibattito lì, che conosco molto bene, e su cui appunto abbiamo organizzato la cosa con Monacelli, non dice questo. No, appunto, appunto. No, il dibattito era quando ho fatto una domanda, citavo tra le fonti, questo Rodriguez Pose, che è questo economista, e infatti lo citava anche Provenzano in questo suo articolo, e l'idea appunto è che le periferie arrabbiate siano causa della Brexit, perché Londra cresce troppo e Milano meno. Ma al di là, e diciamo la periferia meno, così Milano in Italia. Ma al di là di questo, diciamo a me, non era chiara una cosa. Intanto l'idea stessa che Milano non restituisca, cioè non si capisce cosa, perché Milano, come dire, ha un sistema fiscale che è uguale a quello di tutta Italia, cioè non ha un regime fiscale diverso. Quindi se ha maggior successo, restituisce, comunque paga tasse, proporzionalmente per quelle societarie e progressivamente per quelle persone fisiche, in base a quanto produce e a quanto guadagna. Quindi restituisce tutto quello che deve restituire, da questo punto di vista. Però l'altro tema che non avevo capito bene è se il dibattito sia tra il divario tra centro e periferia, cioè se Milano è un buco nero che inghiottisce tutta la crescita attorno, diciamo le parti lese danneggiate dovrebbero essere le zone limitrofe di Interland. O se il dibattito è tra nord e sud. E però questo non c'entra nulla, perché, come dire, se la teoria a cui si rifà provinzano è quella che la città inghiottisca le periferie, il sud non fa parte di questo fenomeno. Cioè devono essere altre città come Napoli o Palermo localmente a inghiottire le aree interne vicine. Infatti l'hanno fatto. Per quanto riguarda l'evidenza empirica, obiettiva, è la cosa che esce proprio dai lavori di Andres e di quelli che fanno agglomeration da tempo. Poi le valutazioni politiche possiamo discutere, ma per quanto riguarda i fatti, quello dice. Oppure se è nord-sud, ma sono due temi diversi. Ad esempio questo, mi scrivo una lettera sul foglio, un consiglio dell'amministrazione. Facendo un parallelo gli chiedevo, non si capisce se Milano è un modello positivo da replicare al sud e da altre parti, o è un modello negativo che non deve essere replicato e deve restituire quanto guadagna. Quindi anche concettualmente, diciamo, è un po' secondo me confusa tutta questa discussione. C'è da dire che anche l'idea che Milano cresca a svantaggio delle altre città non ha molti riscontri nella pratica. Perché, come dire, anzi, Milano soffre l'Italia e il paese, nel senso che è una città dinamica che ha un paese che invece cresce molto di meno. E questo penalizza la città come Milano. A parte che bisogna evitare, posso dire, che poi c'è una questione quantitativa. Non ho completato, però io le cose me le vado a guardare. Milano, sì, sta facendo abbastanza bene, meglio di altre cose, però non è che sia esattamente un miracolo di crescita. Cioè, il problema è che in un paese di orbi anche uno con poche diotrie ci vede. Però occorre anche qualificare che poco di crescita economica che c'è a Milano, a Motor Valley, ancora alcune parti del Veneto. Poi Milano, nel senso che Milano è il suo Interland, quindi metà Lombardia per 5-6 milioni di persone. E altre aree qui e lì del paese non sono numeri fantastici, però sono quelli che permettono al paese di media stare piatto, è vero. Mentre in altre parti, sia del nord che del sud, cioè voglio solo qualificare che altrimenti le parole vengono usate in maniera esagerata e retorica. E sembra che i tassi di crescita di Milano siano quelli di Silicon Valley. Scusami se ti ho interrotto, ma da volte... No, no, no. Ma infatti questo era l'altro tema che, come dire, secondo me non si comprende bene. Che quello che è cambiato con l'innovazione tecnologica e anche la globalizzazione è che le città diventano sempre più importanti come motori della crescita. Da un po' lo sono sempre stati, diciamo, dal Medioevo, la Rivoluzione Industriale, fino adesso. E' pure una grandissima novità. Ma lo sono sempre di più. E città come Milano competono in un'altra categoria. Cioè, sono in concorrenza con Londra, Parigi, San Francisco, Shanghai, Singapore. Non con la provincia, con Canicattie o con altri. Cioè, pensare di chiudere nel recinto italiano in Milano si fa un danno, diciamo, sia alla crescita del paese che al resto dell'Italia. Cioè, sono due, come dire, due campionati diversi. E questo, diciamo, secondo me è un elemento che manca completamente in questo ragionamento. Perché la cosa paradossale è che forse per far crescere di più il paese si deve far crescere più Milano. Anziché... O Milano o città come Milano. Cioè, altre... La letteratura... Ora, adesso citano Pose perché Pose ha una serie di paesi, a mio avviso, dubbi. Ma comunque non importa, sulle regioni, sulle diverse modalità di crescita di diverse regioni europee. Ovviamente c'è grande eterogeneità. In cui poi invoca politiche di sviluppo adatte ai diversi tipi di territori, ma non argomenta assolutamente mai lungo le linee di Milano toglie a quello che volete voi, Roma. Poi la versione è diventata Milano, toglie a Roma. Cioè, Roma riceve così tanti sussidi pubblici che fa spavento. L'idea che Milano tolga cosa, tolga a Roma. Ah, non si capisce. Però, il punto è di osservare che il tipo di progresso... L'osservazione che ormai avviene da trent'anni è che il tipo di progresso tecnologico oggi disponibile, il tipo di attività economiche che oggi nell'Occidente si fanno, che implica tra l'altro la riduzione dei centri industriali, perché ci sono meno fabbriche, perché le fabbriche sono diventate più efficienti, fondamentalmente quello, e meno agricoltura, tende a concentrarsi nelle città, perché le città permettono un certo tipo di interazioni, rendono convenienti i centri uffici, ci sono le università, ci sono i centri di ricerca, eccetera. Punto. La cosa in tutto questo rilevante è che poche città italiane sono riuscite a costruire infrastrutture, attrazione, università, eccetera, che attraggono questo tipo di innovazione. Non è che Milano le porta via a nessuno. Milano attira le sue, se Roma fosse capace di avere gli stessi servizi, andrebbero a Roma, se Napoli fosse capace andrebbero a Napoli. Ma, infatti, stavo cercando, mentre ho fatto veramente quello che tu citavo, in un articolo, adesso vedo se riesco a condividerlo, un recente studio, questo è un po' il problema dell'Italia, un recente studio della Banca d'Italia, che era, diciamo, risultato di convegno comunque in approfondimento, dove mostra in realtà che uno dei problemi dell'Italia è il fatto che, eccolo qui, sviluppo locale, economia urbana e crescita aggregata, di Antonio Accettura, Andrea Lamorgese, Sara Romocetti e Paolo Sestito, dove si parla, appunto, di tutto questo complesso di interazione tra crescita economica, agglomerazioni e città. Dove si dice che in realtà il problema dell'Italia è quello che tra i paesi sviluppati il potenziale di crescita delle città e dei centri urbani è il meno forte, diciamo, dà meno valore aggiunto alla crescita che in altri paesi. Cioè, le Milano in Italia sono poche e sono piccole e la possibilità di creare valore aggiunto dipende da una serie di efficienze delle città, cioè nei trasporti, nella congestione urbana, che non permette, diciamo, di usufruire di tutti i vantaggi delle grandi città, diciamo. Questo è un tema interessante che veniva... E tra l'altro, devo dire, loro sono Accenturo e De Blasio, credo si chiama De Blasio, qui non è fra gli autori, ma credo sia uno dei suoi coautori di Accenturo, sia uno che si chiama De Blasio. Io non li conosco di persona, ma leggo le loro cose. Sono gli autori di questo stupendo libro molto ben fatto per i BL, che in realtà raccoglie le loro ricerche e working paper fatte in Banca d'Italia, pubblicati su vari giornali, le sintetizza, le semplifica, che è stata la base proprio della sezione di Liberi Oltri che potete trovare sul canale con Monacelli e Nicola Rossi, appunto, che ha scritto l'involuzione a quel libro. Ed era, e qui è interessante quel libro, uno jacuzzi molto ben documentato. Provenzano, se vuole discutere con qualcuno, vuole discutere con quel libro. E i lamenti, cioè Provenzano, Viesti, i Lamentosi del Sud, dovrebbero discutere con quel libro, perché quel libro dimostra, pezzo per pezzo, il fallimento delle politiche assistenziali interventiste nel Sud e del fatto come questi siano probabilmente la causa, in parte, della retrattezza mediana. Scusami, ti sto interrompendo troppo. No, no, no. Anzi, io mi sono alzato un attimo mentre parlavi, perché, sempre preparata, ma ce l'avevo di là, nella valigia, che è questo qui. Ecco l'olà. Ed è... Facciamo un po' di pubblicità, quelli dell'IBL, vediamo se si danno un contributo, tanto visto che devi andare a cena da loro. Morire di aiuti di Antonio Accettura e Guido De Blasio. De Blasio. Ed è interessante, anche perché, diciamo, è piccolino, ma è densissimo, perché, tra l'altro, loro non sono, quindi non esprimono quasi giudizi politici, storici, sociologici sul perché, per come il divario dall'unità d'Italia in poi, ok, no. Semplicemente prendono le politiche di coesione degli ultimi trent'anni e con degli strumenti, diciamo, economici, economici, ne misurano l'effetto. Ed è per tutti gli strumenti, i fondi di coesione, i patti territoriali, i contratti di sviluppo, insomma, sono varie tipologie, eccetera, eccetera, l'effetto è praticamente impercettibile o nullo, in qualche caso controproducente e, diciamo, si inquadra in un contesto internazionale dove ha simili effetti anche da altre parti, ma in Italia è molto peggiore anche. E, diciamo, è proprio un lavoro, diciamo, molto, come dire, non ci sono molti commenti, spiegazioni politiche. No, no, è molto difficile. Dico che per loro, essendo due ricercatori in Banca d'Italia, giustamente, per commentare politicamente, riportano i fatti ed è molto denso perché è una sintesi semplificata di lavori di ricerca che hanno fatto in questi anni, quindi non è che casca dal cielo, capito? Quindi, infatti, molto interessante... Questo governo e questa sinistra PD e questo mondo che sta emergendo e ti lascio in nuovo la parola e dice cose stranissime come quelle dette sul Capolarato, quelle dette della Bellanova, eccetera, volessero ragionare seriamente sul problema della retratezza meridionale. La letteratura seria c'è. Confrontatevi. Provenzano ha anche un dottorato in economia da Santa Anna che si confronti, che venga ai dibattiti, che accetti il confronto sui numeri, lui e i suoi colleghi. Le polemiche giornalistiche inventate con falsificazioni come l'articolo di oggi sul Corriere, che non vi menziona, che non discute i temi messi sul tappeto, che fa finta di ignorare, chi utilizza le ricerche degli altri in maniera distorta come quella di Andrè e Sardeghia Spotta. Non è serio, non è serio come intellettuale, ma lo dico io, non è serio neanche come politico, caro Peppe Provenzano, non è serio, è propaganda politica, lo dico anche il mio amico Emanuele Felice continuamente, manipolate i risultati della ricerca scientifica, ecco, il poco che c'è, che sono risultati piccoli, fragili, ma ci sono, manipolate le evidenze empiriche inventandovi causalità che non esistono per invocare politiche che poi sono sempre le stesse, sempre le stesse, quelle fallite. No, ma, infatti, la cosa interessante, diciamo, di questa cosa, poi c'è un sacco di note in questo libricino che sono tutti gli studi, quindi è denso proprio perché ha poi tantissimi riferimenti bibliografici, è appunto questa cosa, diciamo, opposto che c'è un problema di divario, diciamo, di posizioni di partenza tra nord e sud e anche di crescita tra nord e sud e tra centro e periferie, eccetera, eccetera. Ma, dal punto di vista delle soluzioni, sarebbe interessante chiedersi perché se dopo 30 anni, diciamo, solo per stare agli ultimi, i risultati sono questi, perché dovrebbe essere diverso da adesso in poi se si usano gli stessi strumenti? Magari è possibile che usando gli stessi strumenti accadrà qualcosa di diverso perché si cambiano alcune condizioni, però bisognerebbe spiegare quali, oppure se si pensa a nuovi strumenti diversi da quelli che sono stati utilizzati, però, diciamo, bisognerebbe un po' andare a fondo di questa cosa, altrimenti mi pare che la retorica di questa cosa, del sud, diventa quasi sempre una recriminazione, cioè volere un'ottica risarcitoria. Stiamo peggio e dovete risarcirci delle nostre condizioni, ma questo non aiuta diciamo lo sviluppo delle regioni, non farà star meglio le regioni meridionali, cioè mi pare che è quasi come un ciclo, cioè i giovani del sud vanno al nord e si usa questa cosa per chiedere maggiori fondi al sud che produrranno lo stesso effetto, far andare altri giovani al nord, cioè bisognerebbe spiegare cosa si vuole cambiare, perché dovrebbero funzionare queste nuove politiche per il sud. C'è un caso, ad esempio vedevo che nella lettera al Corriere il ministro Provenzano citava tra i punti di riferimento Pasquale Saraceno che era un economista e tra i fondatori della Svimez a favore di politiche del nuovo regionalismo. Ha fatto tanti danni, se vuoi dire la mia opinione, comunque andiamo avanti. E... è stato il fondatore, un fautore di questo nuovo meridionalismo che voleva un intervento statale forte di industrializzazione al sud e, come dire, a me la cosa che sorprende in questo dibattito è il fatto che Saraceno è stato uno dei principali artefici del polo siderurgico di Taranto, cioè ci puntava come centro di agglomerazione industriale per lo sviluppo del sud. Giusto o sbagliato che sia stato, perché ha portato sviluppo a Taranto ha portato anche inquinamento, diciamo, è contraddittore come cosa. Però, adesso, questo governo rischia di chiuderlo quel polo siderurgico per il suo comportamento. Quindi, il ministro Provenzano che è ex vice direttore della Svimez, mi preoccuperei di salvaguardare le realità di Saraceno che è stato anche il fondatore della Svimez che è, diciamo, anche quel polo siderurgico e cercare di impegnarsi... Taraceno è il padre, diciamocelo, fra le tante assurdità delle cattedralie del deserto, eh? Sì, la cassa del mezzogiorno... Tutti conto le cattedralie del deserto, bene. Il padre teorico, al di là delle chiacchiere delle cattedralie del deserto, è Pasquale Saraceno, che pensava che avrebbero indotto le esternalità, le grandi impianti, avrebbero portato la tecnologia, sarebbero nati milioni di imprenditori attorno agli impianti chimici e siderurgici, però, poi, come gli spiegava qualcuno, non era funzionato così da nessuna parte e non ha funzionato neanche lì. Mi dispiace, sono vecchio abbastanza, purtroppo, sai. Eh no, però, diciamo, in questo caso, questa cattedrale non è nel deserto, è nel golfo di Taranto, c'è proprio un investimento internazionale, vediamo che rischia di sfumare, quindi, mi preoccuperei di quell'eredità che, diciamo, è dell'industria di Stato e ha anche un possibile futuro con degli investimenti e, diciamo, no, invece rischia di sprofondare insieme a tutta la città. No, la cosa interessante che mi ha fatto venire in mente, adesso, perché citavo proprio il tema delle cattedrale in deserto, era il libro di Enrico Moretti sulla nuova geografia del lavoro, che era veramente interessante perché spiegava, spiegava anche proprio queste cose, cioè, che sappiamo l'importanza delle agglomerazioni, cioè, di queste città che all'improvviso raccolgono capitali umani, finanziari, persone, idee, creatività, però, dice, il mistero è che non si sa come farle nascere, cioè, quasi tutti i progetti, anche negli Stati Uniti, diciamo, statali o locali, per far nascere queste agglomerazioni, non sono quasi mai riusciti, non sono riusciti, mentre, quasi spontaneamente, non so, diciamo, per l'effetto di una singola industria o di un'università o di un polo innovativo, sbocciano. Però non si sa come, diciamo, coltivarli, come dire, si sa come, no, coltivarli sì, non è che nascono, ma nascono fuori. Non come coltivarli, nel senso che... Non come femminarli, o come... Eh, esattamente, bravissimo. C'è una letteratura enorme su questo, infatti a me ha fatto molto piacere che Moretti, nella sua ricerca, sia arrivato a questo. Perché è una delle cose che piaccia, non piaccia, questa sì, non è che sia liberista, ma è un fatto storico. Lo sviluppo economico, le fasi di grandi innovazioni, i posi che... Mentre riesci a vederlo dopo che sta avvenuto e anche quando sta avvenendo, io sono a Varsavia, come sai, lo vedo, e si vede, chi... la capacità di prevederlo che sarà così, in quella direzione, in quel posto che si potrà, con politiche adeguate, farlo succedere in quella maniera lì, non ce l'abbiamo. Non ce l'ha nessuno, non ce l'ha mai avuto nessuno. E tutti quelli che ci hanno tentato hanno fatto niente. Dopodiché, questo non vuol dire che bisogna abbandonare le politiche e che se lo sviluppo richiede correzioni e distribuzioni di interventi si provano a fare, ma con estrema umiltà. Perché i famosi distretti di cui tutti adesso straparlano quando praticamente non esistono più, non nacquero, io c'ero, in Italia per scelta politica, nacquero contro le scelte politiche. I distretti nacquero a seconda metà degli anni 70 e andarono sviluppandosi dopo in reazione alla situazione di crisi nei grandi comparti industriali e contro le politiche cosiddette di riconversione, ci furono le leggi di ristrutturazione industriale del tempo che non puntavano sui distretti. Io e il buon vecchio Fabio Arcangeli e altri negli anni 70, metà anni 70 e secondo metà anni 70 che ci rendevo, io ero giovane, loro erano più anziani, studiavano sta cosa, quando li videro nascere e dissero, mi ricordo c'era nel mondo della sinistra, il Partito Comunista si studiava molto, specialmente nel Veneto e nel Triveneto e vennero percepiti come una sorpresa. E poi certo, capisci ex post che c'era il piccolo artigianato, c'era una forza lavoro operaia diffusa e distribuita che aveva acquisito un po' di capacità tecniche e aveva capacità artigianale e quindi era disposta a lavorare, c'erano delle conoscenze meccaniche, c'era bla 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 e quindi che erano nate queste imprese diffuse. Però questo l'avevi capito dopo. L'hai spiegato dopo, diciamo. Esatto, l'hai spiegato dopo, non era frutto di nessuna politica né regionale né comunale né provinciale e men che meno statale. Nessuno ha cercato di costruire con delle politiche là il distretto calzatoriero del Brenta o gli occhiali del Cadore, parlo del Veneto, ma potrei parlare, che so, dei tessuti nella zona di, il design nella zona di Carpi che me lo spiegò il mio amico Fabio Canova o quello nel Pratense quando c'era via via le cucine nella riviera marchigiana. No, sono tutti prodotti di un combinarsi di fattori precedenti e non indotti dalla politica. Quando la politica ha avuto un ruolo positivo perché li ha favoriti dopo che ha visto che spingevano e gli ha fornito alcune volte bene, alcune volte molto malamente i supporti logistici, i trasporti, eccetera, eccetera. E infatti è rimasta indietro nel rafforzarli, per esempio, nel non integrare il sistema scolastico con le specializzazioni di questi distretti per cui, vabbè, insomma, adesso non voglio sprolocchiare, ma hai colto, perché l'esempio di distretti è palese, scusami, oggi volevo far parlare sempre il testo, ma si sta parlando io. No, ma che va. È interessante perché poi, appunto, quelle erano anche quelle delle agglomerazioni industriali, urbane, un po' più diffuse, che, diciamo, con la globalizzazione e l'innovazione tecnologica sono state spiazzate da altri mercati, come è accaduto per la Rust Belt negli Stati Uniti o nel settore della Detroit. Cioè, delle città spesso, diciamo, crollano insieme alle industrie che l'hanno fatta superire quando queste sono superate. Il problema è che in questo caso, diciamo, anziché capire come far fiorire altre città o altri distretti, si punta quasi a quella che in questo momento italiano un po' va, perché è un'anomalia. Certo, è un'anomalia in un sistema patologico, diciamo, quello sì, che, diciamo, mentre tutto il resto è una fisiologia di un sistema malato, cioè, diciamo, è tutto così, quindi mi pareva un po' strano questa, vedere, no, Milano in una maniera così. C'è molta, come dire, enfasi anche sulle politiche per le aree interne, vedo, che è un altro tema, cioè, non riguarda neppure il nord-sud, appunto, come dire, fare in modo che le aree interne, soprattutto la dorsale appenninica, che è in decrescita economica, è sempre più spopolata, io sono in un paesino dell'Appennino, del meridione, quindi conosco bene quelle situazioni, però, come dire, lì può esserci un valore nel preservare i bordi, i campanili, i paesi hanno tutta una storia, ma quello è un costo, cioè, non è un modello di sviluppo, cioè, come dire, se tu hai tanta crescita, abbastanza crescita, puoi occuparti e preoccuparti di questo patrimonio storico, culturale che hai, ma non mi pare che possa essere un modello di sviluppo per far crescere il paese, può essere una conseguenza quando tu decidi di distribuire determinate risorse, c'è chi, lo metti per il teatro dell'opera, lo metti per salvaguardare il Colosseo, e poi metterli per salvaguardare i borghi e renderli popolati, perché altrimenti arrivano i cinghiali e le foreste e distruggi quel patrimonio, può essere una politica, ma prima dovremmo produrre queste risorse da poter distribuire, perché al momento diciamo non ce ne sono, e perciò dico mi sembra tutta la sinistra un'ottica quasi conservatrice, cioè di conservare i distretti che c'erano, i paesi come erano, un paese, tutto un paese che è sclerotizzato. Tra l'altro una cosa interessante che c'era in questo studio della Banca d'Italia, che era divertente da un punto di vista storico, faceva dire come soprattutto al sud la distribuzione geografica dei comuni, dei paesi che sono dispersi sulle montagne, quindi piccole agglomerazioni urbane, non nelle pianure, quindi con difficili collegamenti, eccetera, eccetera, dipende molto dalle, come dire, dai pirati, dai corsari dell'anno 1000, da queste incursioni continue. Certo, la geografia della distribuzione, della collocazione dei paesi, in particolare quelli all'interno, sulle rocchi, di praticamente tutta la costiera adriatica, direi a partire da un po' sotto, da vasto, quindi tutta la Puglia, eccetera, la Ionica e poi anche in Calabria è completamente determinata. Quindi era, si vede che questa cosa, questa realtà è persistente, diciamo, nel tempo e ha condizionato in parte anche lo sviluppo di città più grandi o quindi c'è anche tutta una storia che è importante. pensare di conservare tutto questo mondo per farne un modello di sviluppo, secondo me, non so quanto sia possibile, date le risorse di cui dispone l'Italia adesso. Però magari mi sbaglio. Sì, quello che stai documentando è incredibile perché adesso non ti offendere, tu fai il giornalista è sempre un giornalista molto preparato e non ti palesi da grande politico, da storico dell'economia, da dottorato. Vedere persone che invece hanno da un lato questo livello di responsabilità oggi, magari per caso, però ce l'hanno e che dall'altro si piccano come altri di essere grandi studiosi che ignorano brutalmente questi fatti e queste analisi che tu hai fatto fa abbastanza impressione. L'osservazione che tu hai fatto sui paesi dell'introterra o della dorsale appenninica praticamente da passato l'Apenino Tosco Emiliano da passato all'Umbria in giù. L'ho fatta anch'io svariate volte e mi sono fatto mi sono preso delle offese pesantissime. Sono un lusso. Proprio anche recentemente ho spiegato che non è vero che noi dobbiamo a tutti i costi è una concezione del mondo statica in cui ciò che è successo in realtà per caso in contingenze storiche precedenti ha valore assoluto e va preservato per sempre costi quel che costi. Come quell'altra che ha scritto che tutti i redditi di lavoro devono impedire la povertà costi quel che costi dove povertà poi è definita a seconda dei gusti suoi. Obiettivamente certi insediamenti umani in certe zone dell'Appennino erano adatti a certi contesti storici erano il meglio che si poteva fare allora difendevano le incursioni permettevano un certo tipo di pastorizia un certo tipo di agricoltura bla 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 ed oggi hanno solo un valore turistico o paesaggistico storico e quindi non è necessario mantenerne la popolazione cercare di costruire lì attività economiche perché sono impossibili attività economiche reddittizie e tenerle lì e portare lì la broadband tutti i servizi possibili e immaginabili le scuole per i quattro bambini che ci vivono è una maniera per tassare il resto del paese cioè il proletariato proprio per parlare i lavoratori delle periferie delle grandi città vengono tassati e ricevono scuole inferiori perché vogliamo mantenere questi bellissimi piccoli paesi qua e là ai quali invece anche per il bene di queste persone io sono un frequentatore di certa montagna veneta è plateale come generazione di ragazzi capaci hanno avuto la loro vita consumata e distrutta dal fatto che non gli è stato dato l'incentivo di scendere a valle smettere di fare i pastori smettere di tagliare il fieno smettere di cercare di vivere di sussidi a Contrin provincia di Belluno ma io la metto da un altro punto di vista poi ci vive un che può essere anche affezionato ma proprio se vuoi salvaguardarli ma l'ha affezionato un'altra cosa scusa però dico proprio se tu vuoi salvaguardarli come presidio storico culturale eccetera devi preoccuparti che Milano corra e che tutto il resto d'Italia corre perché ci sono tante altre città che corrono per produrre quella ricchezza che ti serve a mantenere questi insediamenti del valore storico paesaggistico che meritano tanti borghi stupendi però diciamo metterli in contrapposizione a Milano secondo me è un errore diciamo per tutti diciamo cioè nel senso proprio se vuoi tenere tutti insieme fai correre chi ce l'ha magari questa pecora tosala un pochino ma non non sbranarla come dire no? perché sono un lusso sono esattamente come la villa il castelletto restaurato in Toscana dal ricco signore frequentemente all'inizio dal ricco londinese che è possibile solo perché costui a Londra è riuscito a cioè come io c'ho un amico non nominerò un mio quasi ex studente lui si considera tale in realtà non lo era uno è un po' di così di studenti questo forse è uno di quelli che è avuto più successo che è diventato un grande investment banker negli Stati Uniti è di origini centroitaliane è affezionato e si sta ricostruendo per chi ha i soldi sta recuperando un casolare enorme molto bello in una certa zona del sud dell'Umbria e questa cosa è possibile proprio perché questo qua ha fatto i soldi a New York perché è un lusso ma sai questo argomento sono sicuro che avrà c'erano delle reazioni in questa parte della nostra conversazione che diranno peste e corna no? diranno Boldrino Capone teorizzano che i bei villaggi medievali o i bei casolari castelletti devono appartenere ai ricchi plutocrati investment ban mentre nella loro versione con questi meccanismi di sussidio e poi in realtà di abbandono appartengono al popolo invece non è vero perché crollano sono abbandonati e quelle poche persone che ci vivono pur sussidiate vivono una vita piuttosto difficile e con poche prospettive di mobilità senti un po' un altro punto interessante che parliamo di biografia e lavoro l'altro tema è che diciamo c'è questo mondo del lavoro il mercato del lavoro e il ministero del lavoro che fu di Luigi Di Maio che ha sempre diciamo che ora in ottime mani dai non sia catalfo che è sempre nel Movimento 5 Stelle ed è diciamo ereditato da Di Maio ed è l'ideatrice dell'orario di cittadinanza cioè è quella che l'ha pensato per prima poi il vero ideatore è stato Pasquale Tridico che invece lo ha diciamo costruito lei ha pensato il blocco e poi Tridico diciamo lo ha rifinito questa opera d'arte e il ministro del lavoro dice a proposito del sud siccome parlavo anche l'altra volta di lavoro di geografia del lavoro che bisogna sconfiggere il caporalato e la soluzione per sconfiggere il caporalato dal sud serve che l'incrocio tra domande e offerte di lavoro sia gestito dal pubblico che in questo modo si neutralizza il caporalato quindi siamo diciamo ai navigator contro i caporali questa è diciamo la soluzione che non si sa se sarà diciamo a questo punto una battaglia navale o campale però diciamo lo Stato schiera i navigator per sconfiggere il caporalato mi pare che il delirio di ogni potenza statalista sia diciamo ai massimi vertici cioè per ogni cosa per ogni tipo di problema come soluzione c'è un apparato dello Stato una sezione un ufficio che diciamo accentra tutta la risoluzione del problema e se ne fa carico per tutti in maniera questi sono fondamentalmente non lo vogliono ammettere ma è questa forma non è neanche socialismo capisci perché se ci pensi saracenismo la programmazione è la stessa roba cioè loro stiamo ritornando ritornando non è mai mandato via sta emergendo questo è quello che questo governo sta facendo è bello è bello perché un po' una cartina di torno al sole è come avere capisci l'entusiasmo in una certa sinistra per essere evitato Salvini ieri ho letto uno che era mio vecchio amico tra l'altro lo conoscevo Goffredo Bettì che era il segretario a FGC di Roma quando io ero lo ero a Venezia un personaggio che è simpatico a suo tempo quando eravamo ventenni qualcuno gli chiede se si ricorda Sapienza Aula Cattedra Finestra cosa gli ricorda ieri invocava il fronte popolare contro il pericolo leghista che riemerge una cultura socialista e in realtà fascista social fascista nel senso stretto fanfagnano che c'è loro pensano davvero che loro capisci quando dicono Stato loro si immaginano se stessi è quello che l'elettore non riesce a capire che quando dice Stato l'elettore si immagina un cavalier perché se ci va Salvini prego perché se ci va Salvini invece va tutto male diciamo la condizione deve essere che lo Stato deve fare tutto e che devono essere loro a farlo perché se lo Stato non riescono a capire che lo Stato è un'altra roba lo Stato è Valanghe di Boro lo Stato è quella roba che ha fatto il consorzio Venezia Nova e non ha fatto Mose per 40 anni lo Stato non è il cavaliere bianco Ajax con la lancia che viene a difendere tutti i robbi nude puro lo Stato quando lo Stato si mette a gestire il mercato del lavoro lo Stato fa gli uffici di collocamento quella roba lì navigator oppure peggio ancora fai navigator quindi quando uno dice io voglio che lo Stato faccia incrociare domanda e offerta cioè è un poveretto perché non si rende conto quello che sta dicendo sta dicendo voglio costruire una gigantesca burocrazia inutile incompetente corrotta dove si cerca di fare l'impossibile cioè di aggregare informazioni distribuite fra milioni di persone per poi mettere d'accordo l'impresa con otto dipendenti con uno che sta a 80 km di distanza ma dove? Ma se ci pensi anche però loro vivono in questa fantasia libresca ma infatti se ci pensi è anche un pensiero abbastanza infantile cioè come quando sei piccolo e vedi che il banco ma ti ti dai soldi e dici te padre ma perché non ne prendi di più? perché alla fine cosa che pensa giustamente il ministro nella sua ingegnità pensa ma scusi il caporale cosa fa? incrocia domanda e offerta perché c'è il proprietario terriero e ci sono dei poveri lavoratori e il caporale li prende e incrocia e lo fa perché non c'è lo Stato se va al navigator dello Stato è risolto il problema cioè quindi è una mentalità infantile ce lo fanno i cattivi se metti buoni a farlo ha risolto il problema metti anche il salario orario a 9 euro l'ora così prendono un salario più alto chi non lavora gli darei di cittadinanza ha risolto tutto cioè ha risolto povertà produttività perché poi Tridico dice che se aumenti i salari minimi aumenta la produttività quindi ha risolto povertà produttività e criminalità organizzata che è il caporalato in una maniera così diciamo infantile e semplice cioè il problema però che ci credono davvero a una cosa del genere cioè abbastanza vuol dire mostro un'ingenuità che è quasi disarmante cioè nel senso come dire ma guarda non lo so posso dirtelo non ho ben capito cioè davvero queste persone cioè uno come Provenzano uno come adesso mi viene in mente il dibattito ma questo ci dedicherò a una cosa stasera starò sulla spesa pubblica lo shock Renzi Fortis Maratin davvero costoro ho visto Roventini uno come Emiliano davvero con tutti gli studi che hanno fatto libri che hanno letto non si sono resi conto che lo Stato è quella roba lì sono gli apparati dello Stato tu pensi siano davvero ingenui? sì no invece c'è una differenza cioè come dicevi tu si è unito in molte cose cioè la parte di diciamo quello che chiamano socialismo ingenuo che è questo del Movimento 5 Stelle che è molto più ingenuo l'altra parte del PD invece che ha diciamo ha studiato ha osservato ha gestito anche il potere è un pensiero più articolato in realtà pensa che in realtà diciamo se andiamo noi che siamo più capaci riusciamo a far funzionare meglio questa macchina statale a far funzionare quei programmi che non hanno funzionato prima perché gli altri avevano un'idea diversa quindi diciamo se noi si uniscono c'è una predisposizione comune a pensare diciamo all'intervento statale per risolvere tutti i problemi quello dei 5 Stelle in maniera più naif voglio dire no così in maniera più elaborata e strutturata con i dipartimenti le strutture i centri studi e tutte queste cose qui quindi diciamo sono come dire c'è un'impostazione simile al fondo ma diciamo di tensione ideale verso questi tipi di soluzioni qualcuno ha soluzioni naif tipo questa ti dico questa che è tridico che il presidente dell'Inps che offre sempre spunti interessanti che è quasi un anello di congiunzione tra la cultura diciamo della sinistra storica e diciamo la naivete del Movimento 5 Stelle che propone diciamo questo fondo integrativo pensionistico pubblico condiviso con il ministro Catalfo diciamo in intervista al fatto quindi il ministro Catalfo è questa dei navigator contro i caporali quindi tridico il ministro Catalfo hanno pensato a un fondo di pensione quindi integrativa però dell'Inps che dovrebbe fare concorrenza ai privati che dice che in pratica il ministero del lavoro sta pensando attraverso un processo più partecipato con le parti sociali a una legge delega all'interno della quale ci sia il fondo che sostenga in modo anticiclico le pensioni del futuro cioè questo fondo questo l'avevo vista in modo anticiclico le pensioni del futuro soprattutto quelle dei giovani l'idea è permettere a chi ha redditi bassi o instabili oggi di avere anche una pensione integrativa domani ma oltre a fare tutto questo c'è il fondo anticiclico per le pensioni del futuro come fai a fare il fondo anticiclico con le pensioni del futuro deve avere una redditività enorme e come lo fai canalizzando le risorse del fondo nell'economia del paese e non all'estero quindi hai diciamo socialismo più autarchia diciamo non so mi pare una cosa veramente surreale come direi tu è l'unione quasi neocorporativa non vorrei dire fascista perché è un po' diciamo un'azione come dire però è un po' quella socialismo e autarchia è un po' sta roba qua e non si capisce poi finirà sto fondo per nazionalizzare la litale l'ILVA e poi voglio capire come si pagheranno le pensioni non solo del futuro ma anche quelle del presente se poi i fondi finiscono per fare sta roba qua però dimmi tu che no no io non ti ho da aggiungere hai colto tutto semplicemente quando ho visto questa cosa ho detto la disonestà politica intellettuale di questa gente senza limiti perché capisci quelli come me ossessionati dall'andamento demografico sono 30 anni che dicono guardate che state facendo non solo danno all'occupazione adesso con questi contributi sociali enormi questa tassazione enorme che aumenta enormemente il costo del lavoro specialmente qualificato e spinge le aziende ad alta qualificazione all'estero così in Italia avevano solo occupazione mediocre o addirittura sommersa non solo state facendo una ingiustizia intergenerazionale perché questi ragazzi che pagano enormi contributi sociali si immaginano chissà che pensioni invece li avete confezionato un mondo in cui le pensioni non ce le avranno anche se se le aspettano ma siccome li tassate così tanto non hanno neanche spazio per dire vabbè mi faccio un'integrativa privata e quindi state creando una situazione di tensione sociale quando sarà finito il privilegio fra 30 anni circa completamente tra 20 secondo me il privilegio è diventato ormai sono sono già passati 30 anni di privilegio brutale perché è dalla metà degli anni 80 che è così tremendamente di massa altri 20 anni ed è finito due generazioni due generazioni e mezzo che si sono mangiate il paese dal punto di vista pensionista dopo cominceranno a arrivare pensioni di fame che è la cosa ipocrita se tu guardi c'è un casino di gente stile forti che se ne escono e ti dicono ma anche Felice me l'ha detto cioè infatti c'è una in uno dei miei primi dialoghi con Felice quasi lo azzanno dice il problema pensionistico è risolto perché nel lungo periodo il sistema pensionistico italiano è apposto e io ho detto nel lungo periodo quando 2050 nel 2050 dopo 60 anni 70 anni di massacro di chi ha lavorato in quegli anni e di privilegi dati chi arriverà in pensione allora si troverà con come si dice in Italia un pugno di sabbia foglie secche in mano ok e loro insorgeranno però quelli che gli hanno portato via da mangiare se ne saranno andati letteralmente nella porta no è una cosa e adesso cominciano a inventarci queste frasi contorte qui questo qua ripetimi chi è Tridico Tridico è un pseudo economista perché ormai va detto usa la parola chiave no no professore lo so anticiclico mentre non ha niente a che fare col ciclo perché è un trend è una cosa sistematica strutturale che i cicli sono le cose che vanno su e giù in media fanno zero signor Tridico quindi la parola chiave sporca che proprio dimostra la mala la mala la mala fede di usare il termine ciclico c'è niente di ciclico in tutto questo c'è una spogliazione che dura da 30 anni ne durerà altri 20 circa o 30 che quindi comprende mezzo secolo una scelta strutturale e politica e lo stanno preparando adesso comincia venisi fuori perché sai fra i più giovani non più meno non più tanto giovani cioè i 40 anni qualcuno comincia a guardare i conti e dire aspetta un attimo continuo ad avere una tassazione gigantesca continuo ad avere dei contributi sociali giganteschi e più guardo il mio conto INPS più mi rendo conto che io fra 25 anni riceverò ciccia quindi il rischio e quindi propone questa fabbrica guarda Luciano non lo so la cosa dell'anticiclico non è uno può dire è giusto o sbagliato ma non ha proprio coerenza interna perché lui dice questo fondo deve essere anticiclico perché adesso anticiclico vuol dire deve agire in maniera opposta al ciclo economico ma dove investirà questo fondo solo in Italia quindi sarà pienamente condizionato dal ciclo economico cioè tu una cosa del genere ha senso se dici e investiremo solo all'estero e mai in Italia perché deve essere anticiclico ma un fondo questo e allora devi trovare il paese che è negativamente correlato con l'Italia ma il fondo anticiclico come dire autarchico è proprio un controsenso logico cioè non può stare nella stessa mente di una persona non può proprio è ho interpretato la parola anticiclico in due significati diversi perché io l'ho interpretato nel senso di siccome la capacità di contribuire gli stipendi bassi gli stipendi netti bassi di adesso è una cosa ciclica tu devi capire la maniera in cui le pensioni delle persone più giovani quelle che sono completamente a contributivo cosiddetto Dini funzionano è tu hai questi contributi e questi contributi vengono capitalizzati a dei tassi che dovrebbero dipendere dalla tasse di crescita del PIL italiano cioè hanno costruito una finta capitalizzazione perché è finta però l'Inps dice ok tu hai dato 100 questo mese che io ho trasferito ai pensionati ti ho preso 100 che è un terzo il tuo stipendio e l'ho dato ai pensionati perché lo consumino bene però io faccio così mi impegno a darti quando sei anziano 100 moltiplicato un fattore ed il fattore è la capitalizzazione del tassi di crescita del PIL medio da quando me li dai a quando vai in pensione in un mondo in cui il PIL non cresce come quello italiano questa capitalizzazione non esiste quindi senza capitalizzazione capisci che uno alla fine si trova un montante come si chiama pensionistico estremamente basso allora io avevo capito che lui dice siccome siamo in un ciclo di bassa crescita ed è per questo che questi ragazzi hanno una pensione bassa in arrivo allora noi facciamo la cosa anticiclica ma intendo perché non c'è nessun ciclo è una cosa appunto che dura 60 anni tu invece ritieni che lui vorrebbe dire mettiamo questi fondi in un fondo e poi quando ci sono le oscillazioni cicliche vere queste minuscole italiane da più 0,2 a meno 0,4 cerchiamo di fare intende questo ma allora è matto totale ma scusa lui dice sostenga in modo anticiclico le pensioni del futuro siccome no 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 secondo me intende quello che dico io adesso non voglio correggerti ma perché se no è pazzia totale cioè allora è proprio una roba da neurodeliri perché sì perché darsi delle pensioni sono diverse però dico se in ogni caso come dire siccome le pensioni dipendono dall'economia nazionale costringere anche il pilastro volontario con questo fondo dell'Inps a investire solo in Italia è una forma di repressione finanziaria ma lui non vuole ma lui vorrebbe ha detto che vuole investirle ma è un fondo è un fondo integrativo perché questo sarebbe sarebbe ma lui da quello che ho capito da quello che hai letto è un fondo integrativo costruito praticamente di nuova fiscalità no 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 perché il fondo integrativo pensionista di pubblico lui l'aveva lanciato anche nella relazione annuale dell'Inps c'è un fondo dell'Inps di pensione integrativa a capitalizzazione che faccia concorrenza ai privati solo che questo dell'Inps investe solo in Italia perché è patriottico ah cioè adesso l'Inps fa concorrenza ai fondi di investimento ai fondi di pensioni sindacali eccetera che tra l'altro anche quelli sono patriotti investendo autarchico andiamo veramente perché io unisco questa cosa proposta che ha fatto con quello che ha detto nella relazione annuale dell'Inps perché è un progetto lui l'aveva lanciato ne ha parlato anche Mario mi pare in qualche video quindi è un progetto diciamo che sta covando da tempo cioè c'è uno studio sotto diciamo c'è una elaborazione non è una dichiarazione così e quindi non capisco come faccia ad essere anticiclico un fondo che investe nell'economia diciamo nello stesso ciclo cioè mi pare un po' capito nella stessa mente umana non dovrebbe esserci due pensieri di questo tipo cioè sono un po' confliggente non lo so questa è l'interpretazione che ho dato io collegando diciamo le varie proposte unendo questo filo lui aveva lanciato di fare questo fondo e lo chiama integrativo altrimenti non diceva che è integrativo è un fondo integrativo pensionistico quindi è sta roba qua per canalizzare le risorse del paese all'interno del paese non all'estero quindi noi canalizziamo cioè prendiamo i soldi i contributi che andrebbero ai fondi di investimento che investono per avere rendimenti più alti e noi li canalizziamo e ce li teniamo tutti in Italia quindi daremo ancora pensioni ancora più bassi a quelli che adiranno a questo fondo perché se crei un vincolo avrà un rendimento più basso cioè il vincolo politico allora credo che l'interpretazione che dai tu è probabilmente quella corretta e quindi da ancora più folle di quello che pensavo io io pensavo intendessi ciclicamente rendimenti bassi perché effettivamente oramai da vent'anni chi contribuisce tieni conto che i primi i primissimi spuntano a fine anni 90 perché la riforma è approvata nel 96 quindi sono 19 anni circa che ci sono delle povere persone che sono state intrappolate da giovani in questo sistema e quindi andranno avanti altri 20-25 anni prima di vedere prima di vedere gli effetti completi perché alcuni sono stati intrappolati però gli hanno fatto una cosa mista quindi il retributivo gli tiene la pensione alta a quelli che invece hanno il proprio iniziato e sono tutto a contributivo vedranno la pensione fra ancora credo 25 anni se più o meno l'intervallo che ho in mente io che infatti quando nei dati come dice Emanuele il problema pensionistico in Italia sarà risolto perché sarà morta l'economia italiana nel frattempo d'accordo vabbè siamo così questo paese sta accettando di farsi governare da questa gente sono tutti contenti noi di Liberi Oltre quindi anche tu ogni tanto contribuisci ma poi tu sul foglio fai la tua parte comunque indipendentemente da noi siamo diventati nemici da osteggiare infatti non esistono più guarda io ho fatto un'omelia sul canale mio perché le cose mie personali me le tengo sul canale che faccio tutte le domeniche mattina parlando di Danning Kruger confirmation bias e mi pare che la fetta della chiamiamola così intelligenza italiana che ha deciso di stare con questo governo e con il renzismo in particolare abbia anche deciso di farsi completamente prendere da questi due meccanismi cioè ignorare i fatti tutte le volte che gli danno torto e poi continuare a ritenersi più intelligenti degli altri inventandosi teorie folle che poi infatti a riprova che non sono più intelligenti degli altri più capaci gli altri si rifiutano continuamente di discutere pubblicamente in maniera pacata con persone competenti che gli dicono guardate che state raccontando e che devo dirlo questo è un fenomeno ormai incredibile cioè non c'è più una discussione pubblica obiettiva ma infatti la cosa non so se ci siamo allungati troppo avevo trovato vedi qui già a luglio ti lascio finire ti lascio la parola a finire a luglio diceva dell'adozione di una forma di previdenza complementare pubblica quindi complementare integrativa per canalizzare gli investimenti in Italia quindi fondi pensione per fare concorrenze in fondi pensione eccetera quindi è quella roba lì per aumentare gli investimenti diretti nel nostro paese quindi convogliamo tutte le risorse in maniera anticipica all'interno dello stesso ciclo un po' come i cresciti a me la cosa che mi sorprende è che di fronte a queste cose come dire non ci sia in tanti che dicono guardi in maniera preoccupante perché adesso ha detto che l'ha condivisa con il ministro del lavoro quindi è una fase che sta per essere realizzata e non ci sono tantissime persone preparate di buonsenso che conoscono le cose in questo paese che dovrebbero dirgli ma che cavolo state facendo non so se diciamo il dibattito pubblico è talmente sbrindellato come dici tu che molti neppure lo leggono si sono stancati anche di partecipare perché è tutto un po' inutile ma poi le decisioni vengono prese anche se non si discute quindi questo poi non so se è un limite magari tanti dopo tante battaglie sono stancati anche di parlare perché è inutile non lo so però io che sono come dire un lettore vedo delle cose e dico ma queste sono cose completamente contraddittorie non hanno alcun senso però passano come proposte normali questa cosa è abbastanza sì sì ormai il dibattito pubblico è una follia e tutti fanno con la faccia piuttosto possibile affermazioni false logiche che continuano a ripetertelo e purtroppo non c'è contraddittori giornalisti salvo pochissime eccetera è incredibile ma tanto questa cosa finirà come la storia finirà come la storia dell'output gap nessuno gli chiederà nulla poi ci sarà il fondo complementare della pensione come su quota 100 nessuno chiede nulla di quello che è successo e sia da un lato a me diverte anche molto cioè un po' mi diverte queste cose freak mi fanno se uno le guarda con un po' di disincanto ci sorride anche sono cose veramente divertenti però sono anche un po' inquietanti perché poi sono cose concrete cioè non sono solo speculazioni teorie perché poi queste sono persone che sono imposti di potere e di governo guarda Luciano appunto è quello il punto anch'io per lungo tempo anche adesso per carità la mia vita economica e sociale grazie a Dio è protetta dall'effetto di questi centroni e quindi delle volte mi dico ma perché lo fai onestamente un esercizio intellettuale mi fanno un po' ridere provo pena per questa gente provo pena per chi gli va dietro per chi è disposto a mentire con loro poi però delle volte quando sono in Italia vedo i miei parenti le sorelle i nipoti o anche amici gente che anche modesta perché io poi ho un'estrazione sociale estremamente modesta che vive qua che lotta che nemmeno capisce da dove gli venga questo disastro in testa e continua a subirlo un po' mi incazzo non per me ma per loro perché gli effetti poi concreti di queste cialtronaggini sono sono grossi che bella conclusione triste dai di qualcosa io spero di essere restituito al mio giornale beh dai speriamo che ti restituiscano domani a Roma dai fammelo sapere che pubblico pubblico un po' su Facebook ma quando riesci vai in treno in aereo in treno in treno ok allora quando scendi a termini o quando ti pare di aver superato il confine che so per esempio le gallerie tra Bologna e Firenze mi mandi una foto io annuncio Luciano Capone è stato felicemente Milano ha finalmente restituito Luciano Capone a Roma va bene già che non mi ha respinto è già una buona cosa quindi già temevo più quello di essere respinto alla dogana da stazioni hanno messo la sala bene alla dogana in centrale c'è una barriera diciamo per antiterrorismo ah il muro il muro il muro di cui parla Provenzano i muri i muri ciao carissimo divertiti stasera io tra l'altro posso dirlo tu andrai non dirò dove vai perché sennò ti rapiscono io invece guarda caso ormai il paese che vado questo è un effetto youtube il paese che vado a lavorare una volta non succedeva adesso col fatto che registro quindi dico dove sono incontro gli espatriati quindi stasera vado a cena con italiani giovani italiani espatriati a Varsavia c'è un gruppo di auto di auto aiuto il gruppo di ragazzi che so qua che mi hanno visto hanno detto eh no hanno detto ma almeno caffè guarda stasera sono anche libero io tendo a quando sono qui per lavoro o sono pranzi cene di lavoro faccio vita solitaria per stasera un po' di italiani ci bevono a birra a cena quindi c'è anche gente sequestrata fuori dai confini nazionali non rapiti sì sì Varsavia adesso andrò a verificare da dove vengono io scommetto che sono stati rapiti eh sono stati rapiti dalla secondo me vengono da sotto il po' però adesso vediamo ah sì adesso stasera documenterò che anche Varsavia prende e non restituisce ecco vedi mannaccio vabbè ciao buona serata ciao Luciano ciao ciao ciao